Nella mattinata del 9 gennaio, i carabinieri forestali della stazione di Asti sono intervenuti in località Boana, nella zona degli Stanni di Belangero, dove i vigili del fuoco erano già alle prese con lo spegnimento di un ruogo di rifiuti. I militari hanno identificato sul posto l'uomo che aveva piccato il fuoco, un rumeno di 65 anni, e l'hanno denunciato a piede libero per combustione illecita di rifiuti. Il ruogo è interessato, rifiuti di vario genere, il cui abbandono al suolo non può essere al momento attribuito al responsabile dell'incendio. La zona è interessata da frequenti abbandoni di rifiuti che deturpano anche aree di notevole interesse ambientale, come gli Stanni di Belangero e le sponde al fiume Tanaro, su quali i carabinieri forestali stanno indagando. Il fenomeno dell'abbandono interessa anche le aree private, risale solo a pochi giorni fa, sequestro, operato dagli stessi militari, di un cagnolino detenuto nelle partinenze di un'abitazione di Casorzo, letteralmente invase da rifiuti. Il cane, che comunque risultato in buone condizioni di salute, si muoveva tra spazi occupati da diversi metri, cubi di rifiuti, inclusi parti taglienti, potenzialmente pericolose, come specchi rotti, frammenti di vetro e lamiere, tanto da indurre i militari a decidere per il suo sequestro e conseguente trasferimento in canile.